carissimi stiamo andando molto bene con il mio canale vi invito tutti ad iscrivervi per farlo crescere ancora mercoledì 3 febbraio 2021 sono giorni caldissimi anche se freddi per quanto riguarda invece il clima c'è grande confusione nel governo stiamo vedendo un po' se mario draghi che ha accettato l'incarico da mattarella con riserva riuscirà a fare qualcosa di buono c'è grandissima confusione nei partiti ma in questa giornata arriva anche una notizia clamorosa per quanto riguarda invece il calcio e in particolare le sorti della squadra che più mi sta a cuore cioè la roma come avevo auspicato in precedenti video video che ho fatto auspicavo insomma una riconciliazione fra ed in gecko e fonseca perché ti è veramente venuta a creare una brutta situazione di separati in casa che andava a nuoscere poi alla fine a tutti a alla roma a gecko a fonseca a tutti quanti indubbiamente le premesse per questa riappacificazione che pare che si stia venendo a determinare dopo l'incontro di questa mattina fra i due che è andato molto bene con ed in gecko che da professionista qual è anche ben pagato si è mostrato molto disponibile a dialogare pare che si possa arrivare a trovare un accordo per non penalizzare nessuno nel giocatore nella roma e quindi sembra che la crisi stia rientrando sia rientrata anche se come stavo dicendo poc'anzi le premesse per arrivare a questo sono state create dai buoni risultati dalla grande partita che la roma ha giocato contro il verona perché altrimenti io non lo so se fonseca sarebbe ancora sulla nostra panchina però quello che è successo nel passato a un certo momento uno se lo deve anche buttare alle spalle e quindi bisogna oggi è mercoledì 3 febbraio fino ad altro ieri avevamo un governo adesso forse ne avevamo un altro fino ad altro ieri avevamo gecko fuori squadra adesso gecko sta facendo dei passi per rientrare non a caso questo avviene prima della partita così difficile contro la juve ma andiamo un attimo a leggere quelli che sono stati commenti di alcuni opinionisti che seguono la roma prima ancora dell'incontro di questa mattina che ripeto c'è stato è stato molto positivo effettivamente i due sono tornati sui loro pazzi insomma stanno cercando di arrivare a una soluzione per porre fine a questa situazione anche ridicola perché tra le altre cose gecko costa anche un sacco di soldi pagare un giocatore fino a fine stagione non farlo giocare francamente anche ridicolo è un discorso un po terra terra ma purtroppo sono anche tempi difficili questi quindi al di là naturalmente del valore tecnico del giocatore che conosciamo tutti allora marione cosa dice marione corsi la roma ha fatto un mercato non male se gecko viene reintegrato pedro forse rientra alla fine credo sia una squadra che possa dire la sua quest'anno e subito a torino sabato peccato che manchino pellegrini e smolling infatti pellegrini è squalificato e smolling come sappiamo ha un problema ai flessori che lo terra fuori la partita con la juve smolling si è infortunato purtroppo contro il verona dopo solo 12 minuti ma la roma devo dire che ha dimostrato il saper sopperire molto bene anche alla mancanza di un giocatore fondamentale come smolling da una parte abbiamo debolezze in difesa importanti il portiere che speriamo si riscatti e la mancanza di smolling gecko gioca non gioca credo che stavolta friedkin ne abbia parlato con loro qualcosa sarà successo lo scudetto si può vincere anche senza allegri questa una ricreazione non mi aspettavo da mario ma allegri darebbe la garanzia degli acquisti e tutto ciò che ne consegue cioè si arriva alleghi alle che viene ti dà ai giocatori forti sono non viene questa è un po la logica che effettivamente questi allenatori il loro segreto a dire sì io sono un grande allenatore ma mi dà ai giocatori forti perché in campo non c'è mando mi zia e mi nipote ci vogliono i giocatori buoni quindi se alleghi si muove è come un po la logica che che ha antonio conte no vuole giocatori forti mentre un allenatore di profilo diverso si accontenta anche di giocatori meno forti pur di lavorare praticamente adesso il calcio uno spettacolo serve gente che sappia gestire il tutto questo non è questo secondo me il punto poi c'è nando orsi che non so perché parla sempre della roma anche se è un ex raziale vabbè la roma senza smolling e pellegrini perde tanto alla juve manca bentancur mancherà anche di bala tra l'altro che infortunato ma in proporzione e mancherà anche aaron ramsey sempre per infortunio ma in proporzione perde più la roma ma penso che la juve sia favorita su questo non ci piove anche se sarà una partita aperta è un momento di snodo di snodo per entrambe se la roma vincesse potrebbe fare dei conti importanti beh certo se la roma vince a torino e a quel punto la ragazzi non ci possiamo mica tanto nascondere perché qua non è che siamo tanto lontani dai primi posti ma da questa vince lo scudetto ce ne passa naturalmente anche pareggiando la roma farebbe un buon risultato ma entrambe hanno l'obbligo di vincere non mi pare proprio che hanno l'obbligo di vincere le prime giornate del giorno di ritorno è una cazzata questa toni damascelli è una partita svolta per la roma è una partita svolta se vince se perde non gli dice niente che non ha ancora mai vinto con le big questo è un po nervo scoperto in questo momento potrebbe approfittare delle distrazioni anche se difficilmente la juve ne avrà la juve vista ieri a milano contro l'inter ma anche quella in supercoppa contro il napoli ma anche quella genova con la sampo ci sono una squadra molto concentrata molto quadrata non ho vista neanche tossa come magari avevamo abituati però vista col cervello proprio sul pezzo proprio l'abbiamo visto dal gol di ronaldo il secondo gol che va a rubare questo pallone a bastoni quello sembra facile ma ci stai con la testa dentro la partita per rubare un pallone del genere non è un gol che fanno tutti quello lì sembra così ma non è avere proprio l'ottica proprio di voler andare a rubare la palla all'avversario in questo momento potrebbe quindi approfittare dicevamo delle distrazioni della juve che difficilmente ne avrà sarebbe un grande stimolo per gioco giocare questa partita ma non so come si sia allenato in questo periodo ma sei allenato gioco non è quello il problema gioco sei allenato magari tu puoi dirmi non so se a livello mentale stato è stato dentro il progetto oppure se ha cominciato a pensare vado a giocare qua vado a giocare là procuratore la moglie fa che facciamo rimaniamo a Roma non rimaniamo a Roma tutte queste dinamiche noi sappiamo che vanno poi a influenzare molto nella psicologia più un calciatore sta tranquillo e più quando va in campo rende oppure più il giocatore è incazzato e più rende sono queste due le dinamiche ma quando un giocatore li rompi i coglioni tutta la settimana quello poi quando va in campo gioca male o furio focolari furio focolari dice il vantaggio per la roma è giocare in un campo che non è più lo stadium ma è neutro questa è una cosa che avevo rilevato anche io in video precedenti se l'avete notato e dicevo con lo juventus stadium pieno è una cosa non sta vuoto è un'altra situazione e questo vale ma anche un po per tutti gli stadi ma particolarmente con lo stadium che c'è quel pubblico che ti spinge attaccata al campo la juve ha comunque ha giocato seppure non quella titolare lo svantaggio è che la roma ha assenze pesantissime sì però se rientrasse zeko potrebbe mancare un rientro molto pesante la roma ha fatto di tutto per vendere zeko fonseca ha vinto da questo punto di vista sicuro non giocherà con la juve ma va reintegrato questo è il pensiero di focolari però non era ancora a corrente dell'incontro pacificatore di questa mattina è una notizia abbastanza clamorosa ma in realtà ci poteva stare perché io ho anche detto no che è opportuno che i due si parlassero ma non c'è neanche poi secondo me da chiedere scusa perché qui siamo dentro uno spogliatoio ci si manda anche a quel paese non è che non sei all'oratorio no se qui ci si ballano soldi in queste partite qui sono dei professionisti che fanno il loro lavoro ogni tanto ci si può anche mandare a quel paese non è che va sempre tutto bene ma anche come avviene in tutte le famiglie non è che questo può deve pregiudicare necessariamente i rapporti poi certo se tu mi ti un pugno in faccia è chiaro che se ti manda a quel paese ma non è questo il caso luigi ferraiolo io penso che la juve sia più forte della roma a prescindere dalla classifica questo penso che lo pensiamo un po tutti ed è un po la scoperta dell'acqua calda la roma non può andare a fare una partita difensiva non la sa fare ma non lo so non può snaturare il suo modo di giocare deve fare il calcio per il quale è preparata caro fraduolo se noi andiamo al torino a fare la partita ci apriamo finisce male perché tu c'hai giocatori davanti che sono troppo rapidi troppo quelli aspettano cercano proprio gli spazi no cioè quindi la partita non crede che poi a torino a fare la partita dominante che li metti sotto la juve perché non è così sarà una bella lotta a centrocampo la roma quando subisce fragile deve giocare una partita alla pari perché è il suo modo di stare in campo no non è così la roma di fonseca gioca un po come lo shaktor lo shaktar o meglio vorrebbe giocare giocare molto offensiva molto dominante molto aggressiva ma non lo puoi fare con tutte le squadre che incontri perché ci sono delle squadre che sono più forti e infatti non è un caso che la roma con le grandi soffre e con le piccole invece a gioco facile vince anche con un largo punteggio perché le squadre più piccole le metti sotto le squadre più forti non ci riesci è molto semplice poi sentiamo cosa dice roberto pruzzo fortuna che la roma non ha preso alexis sanchez sapete della trattativa che c'è stata tra inter e roma per un eventuale scambio sanchez geco visto sanchez nella partita ricopitare con la juve meno male che non abbiamo preso mi sembra un giocatore che ormai dopo tanti infortuni è un po entrato in fase galante anche se il resto è un giocatore tecnicamente interessante non aggiunge sanchez non aggiunge assolutamente niente ieri sanchez è stato tra i peggiori a conferma di quello che stavo dicendo a reynolds l'americano reynolds è il nostro nuovo acquisto del calciomercato di gennaio un esterno americano che ha detto devo curare di più la fase difensiva ho detto partiamo subito bene vabbè speriamo bene peraltro spinazzola a me sembra il miglior terzino del campionato italiano capito spinazzola ma detto da pruzzo finazzola deve essere contento di questo commento è finazzola quando in giornata è un brutto cliente per tutti e magari mio terzino del campionato italiano non mi sembrava comunque speriamo bene e anche caso ha trovato una buona condizione ma certo cazzo dopo tutti quegli infortuni finalmente stiamo vedendo un calciatore se non altro giocatore abil arruolato che può fare il suo anche secondo me non difende però vabbè quei settori che sembravano i più disagevoli ora la roma i problemi allora quindi qua ci manca una parola sarà in quei settori che sembravano i più disagevoli ora la roma i problemi non ne ha semmai ne ha in mezzo alla difesa beh certo se malca smolli con la juve una partita aperta ed equilibrata la roma ci arriva bene gecko penso sarà in panchina all'inizio beh certo che gecko già in panchina a livello psicologico già una bella bella cosa poi potrebbe darti una mano nei momenti chiave la juve è in buon momento è la juve in un buon momento ha ritrovato certezze però in un campionato come questo dove giochi ogni tre giorni l'incognita è dietro l'angolo quindi diciamo che dalle parole di prusso del nostro bombe prusso lascia un po intendere che magari si potrebbe partire con boggia ma io ralla poi nel secondo tempo soprattutto se il risultato sarà se stai perdendo 3 a 0 e mette inutile poi mettere gecko però se il risultato sarà ancora in bilico si può anche pensare di mettere gecko al posto di mayoral in base anche a come sta giocando mayoral però se mayoral come io spero sta giocando una buona partita io non escludo l'ho già fatta questa ipotesi che gecko potrebbe giocare anche dietro boggia mayoral perché gecko ce l'ha i piedi per giocare dietro la prima punta lo sappiamo tutti ovviamente ha bisogno di una prima punta che sa come deve muoversi voi vi ricordate per esempio come giocavano totti e per rotta non quella posizione totti finto centravanti falso 9 che in pratica palla dentro per totti totti usciva e uscendo lanciava per rotta nel corridoio che si infilava quanti gol hanno segnato ma proprio tanti ne hanno fatti così capito bisogna che i due quel tipo di modulo ci deve essere molta intesa io non so adesso boggia mayoral si può parlare lo stesso linguaggio tecnico di gecko non mi sembra però io credo un 44 11 in questo tipo di partita qua con un avversario che comunque più forte potrebbe essere un modulo secondo me molto interessante perché ti consentirebbe anche di proteggere molto la difesa che chiaramente andrà molto tutelata in una partita del genere anche perché tra l'altro la juve è la squadra forte anche sulle palle alte quindi ne fai molta attenzione allora abbiamo letto quindi prusso mario mattioli mario mattioli è chiaro che con gecko la roma acquisirebbe una pericolosità diversa e maggiore anche se poi sarebbe da vedere il ruolo di mikhitalia no non si ha paura della roma nessuna squadra ha paura dell'altra la juve se la può giocare da garanzie superiori di quante ne desse un mese fa sarà una bella partita la roma continua ad essere una delle migliori squadre del campionato a tratti la migliore questo sinceramente mi sembra un po generoso come commento però ce lo prendiamo credo che la juve possa vincere appena detto che giochiamo uno dei cacci migliori ma alla fine mi dici credo che la juve possa vincere sarà una grande partita ma penso vinca la juve grazie grazie e complimenti ilario di giovan battista ho scoperto chi siano i giocatori della roma che gestiscono i rapporti con la società uno è sbolling l'altro è spinazzola poi pellegrini un altro è mirante e poi mancini che fa parte della comitiva dei senatori importanti mi pare strano perché mancini oltre che essere arrivato la poco è anche giovane stanno cercando di riportare dentro geco il procuratore di allegri ha smentito voci sulla roma ma in modo strano caso geco ora si vedrà lo spessore dell'allenatore lo spessore dell'allenatore caro ilario di giovanni mattisto è stato ben testimoniato e però questa mattina perché l'allenatore con molta tranquillità ha accettato di parlare di quello che è successo con geco chiaramente il nervosismo dei primi giorni è andato scemando penso che questa crisi la società l'ha saputa gestire bene perché ha lasciato sbollire no queste 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 tensioni questi queste ruggini ha mantenuto ha levato la fascia di capitale a geco comunque ha passato i piedi all'allenatore è andato oltre quello che doveva fare ha tenuto un po diciamo ai margini e poi ad un certo momento gli ha detto geco c'è ancora qui sei mesi di contratto qua non te vuole comprare nessuno che vuoi fare vuoi fare il turista romanti sei mesi o vuoi dare una mano pure tu alla cauda visto che tra le altre cose siamo terzi in classifica stiamo anche giocando un buon calcio quindi giustamente geco che non c'ha più vent'anni è chiaro che il campo lo vuole vedere alessio nardo ci vorrà un po' per ritrovare sharawi forse però un giocatore rapido veloce e leggero quindi spero che non ci voglia tanto bisogna sempre vedere in che condizioni è tornato dalla dall'est l'aspetto dell'età è confortante a 29 anni e ha scelto di chiudere la parentesi in cina per rilanciarsi ad alti livelli è motivato a voglia di ricominciare ha di fronte un bel pezzo di carriera si zaniolo sembra che abbia il posto assicurato all'europeo ma non capisco perché se parla così se passerebbe a parlare di zaniolo zaniolo si sta recuperando l'infortunio per lasciamolo allenare in santa pace lasciamolo recuperare sperando che sia l'ultimo della carriera questo infortunio e di poter recuperare questo giocatore per noi tatticamente è così importante riccardo cotumaccio sappiamo le qualità di el sharawi di come a volte riesca a risolvere le gare dal nulla è un giocatore nel pieno delle facoltà atletiche ma dal punto di vista atletico e sharawi è un giocatore non si discute se è sempre stata una delle sue migliori qualità l'unica cosa con giocatore che non è sempre continuo c'ha delle belle pause anche durante i 90 minuti ma è un qualcosa su cui probabilmente con la maturità avrà lavorato e sarà più che può migliorare sicuramente sicuramente trova una roma meno forte di quella che ha lasciato anche se qui si può dibattere la roma di oggi ha bisogno di lui anche geco ha bisogno di e sharawi secondo me può andare all'europeo quindi diciamo che c'è un'aria bella frizzantina per quanto riguarda l'attacco della nostra squadra perché se recuperiamo geco che devo stare tranquillo un grande umiltà no è stato un po la voce con con fonseca ma a fin dei conti non è successo nulla c'è la grandissima tensione grandissimo nervosismo dopo la sorprendente eliminazione in coppa italia partita contro lo spezia geco partiva dalla panchina è entrato un po tardi è successo un po di tutto due espulsioni in un minuto siamo usciti con lo spezia è chiaro che capitano della squadra girano abbastanza le le cosiddette però voglio dire alla fine è stato uno scazzo come come si suol dire con l'allenatore quindi l'allenatore giustamente non poteva far finta di non sentire di non vedere perché questo confronto è avvenuto davanti a tutti quindi non si può l'allenatore far mettere i piedi in testa da un giocatore è andata così ma lui adesso con grande umiltà e grande serenità può ricominciare tutto dal capo quindi dicevo possiamo recuperare geco abbiamo questo boggia maggioral che un po la sorpeta della stagione per quanto riguarda la roma molto giovane che ha fatto fino a in stagione 9 gol e 6 assist e scutate sono pochi quindi grande grande entusiasmo intorno a questo giocatore anche troppo forse poi però c'è tanta roba che ci abbiamo mkhitaryan pedro e sharawi zagnolo che deve rientrare quindi abbiamo tutta una serie di giocatori naturalmente c'era anche cal spera che è un po quello che non sta andando tanto bene in questo momento sono tante pedine da sfruttare al nostro arco tante frecce al nostro arco quindi dal punto di vista offensivo si fa bella frizzantina come dicevo la situazione mentre senza geco chiaramente tutto il peso della prima punta stava sulle spalle di sto povero maggioral che è appena arrivata a roma sta facendo i miracoli ma da qua alla fine stagione che aveva un po sempre andare bene ha bisogno anche in un'alternativa quindi vediamo un po se come si inserisce adesso al sharawi in questa squadra vediamo vediamo un po questo rey non credo che possa pronti via deve anche imparare un po come le caratteristiche del nostro campionato ha bisogno di un po di tempo vediamo un po che tipo di giocatore speriamo di non avere altri infortuni la classifica molto buona siamo terzi la juve deve recuperare sempre una partita con il napoli e questo va detto perché battendo il napoli o pareggiando la juve già ci avrebbe scavalcato raggiunto però il nostro obiettivo il quarto posto noi dobbiamo guardare al quarto posto non sogniamo troppo in grande anche se inter e milan sono squadre che vedo che spesso perdono anche qualche partita non mi sembrano assolutamente due corazzate o molta più paura della juve che si comincia veramente a ingranare diventa una squadra che può ancora aspirare allo scudetto quindi la notizia bomba di oggi è il ritorno quindi della pace fra Dzeko e Fonseca buona roma a tutti e iscrivetevi al mio canale